Buona giornata a tutti. Come sappiamo dagli avvenimenti che stiamo vivendo non potremo fare la processione del 24 maggio, però non vogliamo lasciar perdere un'occasione così bella per la nostra vita, per la nostra tradizione anche di pella e di intorni. Allora ci diamo appuntamento per domenica sera 24 alle ore 20.45 con un rosario in diretta streaming. Ecco, Don Beppe vi dirà il resto. Buongiorno a tutti. Buona giornata, come diceva Sor Concetta ci diamo appuntamento allora domenica sera 24 maggio alle ore 20.45 per la diretta streaming del Santo Rosario. La diretta streaming è sul profilo Facebook delle parrocchie dei Castelli Cusiani. Buona giornata a tutti. Buona giornata a tutti.